Varata a Taranto nel cantiere SGM, la seconda barca porta destinata al bacino brin dell'arsenale militare di Taranto e il grande ritorno della cantieristica navale. Due soccorritori del 118 in vacanza a Marina di Lizzano nel Tarantino salvano la vita un giovane bagnante che dopo essere uscito dall'acqua è colto improvvisamente da un malore. Grande serata all'ippodromo Paolo VI di Taranto con i Gran Premi Città di Taranto e Due Mari. Trionfatore il driver Alessandro Gocciadoro. Buongiorno, bentrovati. Consueto appuntamento con l'informazione dedicata a Taranto e provincia. Ed è stata varata proprio nella città bimare nel cantiere SGM la seconda barca porta destinata al bacino brin dell'arsenale militare di Taranto. E' così il grande ritorno della cantieristica navale. L'antica vocazione tarantina della cantieristica navale continua a consolidarsi. La cantiere SGM nella sedime degli storici cantieritosi ha ospitato il lavaro di una seconda barca porta, la porta galleggiante che osstruisce l'ingresso dei bacini muratura destinata a completare la dotazione della bacino brin all'interno dell'arsenale militare di Taranto. La prima era stata consegnata a dicembre, si tratta della terzo varo targato SGM in pochi mesi, comprendendo il mega yacht costruito per la Benetti, una crescita salutata con soddisfazione da tutte le autorità intervenute, assolute protagoniste le maestranze ioniche e a settembre ci sarà un nuovo appuntamento per un altro yacht commissionato alla SGM dalla Benetti. Questo cantiere oramai si è affermato come cantiere e credo che i risultati parlino da solo. Sono veramente soddisfatto delle maestranze che hanno affrontato questo tipo di attività e credo di aver dato a Taranto, che abbiamo dato a Taranto nuovamente vita finalmente ai cantieri navali. Con questa si completa la dotazione per adesso del brin. Come sapete il brin è un bacino con la particolarità di avere anche un gargame centrale, per cui può anche essere diviso in due e svolgere due lavori contemporaneamente su unità di taglia minore e questo ci consente di impiegare al massimo le nostre strutture dell'arsenale. Speriamo che si possa continuare su questo solco, anche perché è uno dei driver sui quali come amministrazione comunale abbiamo puntato per il rilancio del piano strategico proprio della città di Taranto. Restiamo nella città di Taranto. Parliamo con il direttore Gianni Sebastio della Cozza Tarantina. Le alte temperature delle ultime settimane hanno provocato caldo torrido e il surriscaldamento del mare. Tutto ciò avrebbe gravemente danneggiato la produzione di cozze, stando a quanto riferiscono alcuni allevatori. Circa l'80% in meno rispetto alla produzione di questo periodo dell'anno. Il seme è qua, guarda, tutto morto. Stamattina si sono messi le mani in testa perché hanno trovato tutto il seme, tutto morto. Se ne sono andati. Non si può andare più avanti così. Male, male, male. Siamo proprio inguaiati quest'anno. Anche il seme della produzione dell'anno prossimo è morto quasi tutto. Intanto a causa di questa situazione, Angelo Matichecchia, titolare di uno storico ristorante in città vecchia, ha deciso di eliminare dal menù la cozze tarantina. Abbiamo deciso che da oggi togliamo dal menù, rimuoviamo dal menù tutti i piatti delle cozze, ma questo non è una scelta definitiva, è solo transitoria. In attesa che la situazione del mare migliori, perché questa decisione nasce anche da dare una tutela ai clienti, ai turisti che vengono in questo momento a Taranto convinti di poter gustare le cozze tarantine, mentre invece non sarebbe corretto nei loro confronti offrire un prodotto diverso che non ne rispecchi la qualità. Voltiamo a pagina. Due soccorritori del servizio 118 in vacanza a Marina di Lizzano nel Tarantino hanno salvato la vita ad un giovane bagnante che era uscito dall'acqua quando è stato colto improvvisamente da un malone. Davide Cannalire e Caterina San Pietro, eccoli due eroi soccorritori a cui un giovane di 33 anni residente a Grottaglie deve la vita. Due angeli per il bagnante che a Marina di Lizzano, dopo essere uscito dall'acqua, ha avuto un arresto cardiaco. Il destino ha voluto che voi foste in quella spiaggia, eravate in vacanza, che cosa è successo? Siamo stati travolti da un evento improvviso, è un giovane che si accasciava in spiaggia e quindi io facendo riferimento al fidanzato di mia figlia, nonché un autista soccorritore, subito ci siamo catapultati su questo giovane uomo e abbiamo fatto quello che è il nostro protocollo. Anche se non eravamo in servizio lo abbiamo attuato, ho iperesteso il capo, fatto appunto le prime valutazioni del caso abbiamo iniziato il nostro RCP perché il ragazzo era in arresto cardiaco. Tanto sangue freddo ovviamente, è un momento di vacanza, ci vuole insomma grande coraggio. Sì, tantissimo sangue freddo anche perché io ero in acqua, quindi ho sentito le urla sue che mi chiamava, comunque quando siamo arrivati subito abbiamo capito che era in arresto cardiocircolatorio. Il caso voluto ci fosse anche un infermiere di Torino? Sì, 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 fortunatamente un infermiere di cardioreanimazione dell'ospedale di Torino che ci ha aiutato tantissimo. E grazie a loro e al defibrillatore del vicino Lido Maracaibo che il cuore del 33enne originario di Pomezzi è ripartito. Sta bene e non vede l'ora di incontrare i suoi eroi. In questi casi però che cosa bisogna fare? Occorre immediatamente capire che il soggetto è in arresto cardiaco, se lo chiami non risponde, iniziare il massaggio cardiaco tenendo le braccia tese, rigide, spingendo con forza e anche profondamente 5-6 centimetri nel soggetto adulto, 100-120 compressioni al minuto, indispensabile anche farsi guidare dalla centrale per l'utilizzo del defibrillatore anche se non addestrati. Queste sono le novità legislative. Tutto il popolo italiano deve essere messo in grado, real time, in tempo reale dalle centrali operative di fare un massaggio cardiaco e di erogare quel pulsante, quella scarica elettrica che fondamentalmente fa la differenza tra la vita e la morte. Le spiagge sono un bene che appartiene a tutti, pertanto vanno tutelate e rese accessibili e fruibili. Andiamo a Castellaneta. Si chiama spiaggia per tutti e per tutti. Lo è davvero. A Castellaneta Marina il sindaco Gianni Di Pippa ha voluto che turisti e residenti disponessero di una spiaggia ad accesso libero e inclusiva. È un progetto interamente finanziato con fondi comunali. Abbiamo voluto rendere ulteriormente equa e solidale la nostra marina. Nel tratto pubblico denominato Pino D'Aleppo una spiaggia accessibile a diversamente abili, anziani, bambini, dotata di sedie e moduli con bagni e spogliatoi riservati proprio ai diversamente abili. Servizio salvataggio in spiaggia. Il sindaco dice che la nostra visione è quella di rendere le spiagge pubbliche gratuite e attrezzate. Abbiamo raddoppiato gli stali per disabili. Stiamo portando avanti un'importante azione di rimozione di cancelli abusivi che impedivano l'accesso all'arenile. La sua idea, quella della sua amministrazione, è quella di rendere le spiagge pubbliche gratuite e attrezzate. E i lì di cosa faranno quelli invece privati? Diciamo che è una sana competizione pubblico e privato. Per noi la spiaggia è un bene della collettività e per questo va tutelato e reso accessibile. E questi interventi vanno nella giusta direzione. Quindi è una sana competizione tra pubblico e privato. Due strade di Campomarino sono state intitolate a due grandi uomini di chiesa, Papa Uetiwa e Don Luigi Giussani. Adesso Campomarino di Marugio, via San Giovanni Polo II e via Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Sono le due strade che abbracciano la parrocchia di Maria Santissima Assunta che su proposta di un utrito gruppo di amici di Don Giussani, della Tarantino e della Brindisino e della sede di Taranto della Fondazione Banco Alimentare sono state dedicate ai due grandi uomini di chiesa. Una santa messa celebrata da Monsignor Gino Romanazzi, anima storica di CL in terra di Puglia, ha preceduto la cerimonia di benedizione delle due targhe nella piazzale gremito della parrocchia. Presente il sindaco di Marugio Alfredo Longo che ha accolto la proposta della doppia intitolazione. La serata si è conclusa con una serie di testimonianze sull'importanza degli insegnamenti e della strada tracciata da Papa Guetila e Don Giussani. Ognuno di noi è figlio di Don Giussani. L'abbiamo incontrato da giovane e in qualche modo ci ha insegnato che la vita era positiva nonostante tutte le contraddizioni. Questa positività si riflette nel concepire la propria vita a servizio degli altri. Di qui è nato il Banco Alimentare. Abbiamo deciso di abbracciare la parrocchia dedicando a due uomini, un santo e un presto beato, speriamo, le due vie principali che appunto sono parallele alla chiesa di Campomarino. Il caffè Tripoli di Martina Franche è ormai chiuso da tempo ma non lo sarà per sempre e si spera possa riaprire subito dopo l'estate. Nella settimana, in questa settimana, dovremmo raggiungere un accordo o verificare definitivamente se ci sono i presupposti per rinegoziare effettivamente il rapporto di locazione. Le serrande sono abbassate. L'estate di Martina Franca è orfana di uno dei posti noti che hanno reso celebre la città al di fuori dei confini regionali. Il caffè Tripoli ormai chiuso da tempo non lo sarà per sempre ma è davvero difficile poterlo rivedere aperto prima della fine dell'estate. Dal caffè Tripoli sono passati tanti personaggi famosi negli anni è stata una delle pasticcerie più note di Puglia non solo per le delizie preparate ma anche per via di quella celebre foto di Ferdinando Scianna scattata a Maria Grazia Cucinotta che nell'ultimo ventennio ha fatto e continua a fare il giro del mondo. Il caffè Tripoli si spera possa riaprire presto è in corso una interlocuzione tra i proprietari delle mura del locale e i gestori dello storico caffè. Ecco perché la questione Tripoli ha fatto scalpore perché se non vado errato è da 72 anni che il bar non era chiuso. Diciamo che la chiusura è stata determinata ad un periodo di riposo del vecchio gestore leggendario Vito Colucci e poi ovviamente perché c'erano già trattative in corso per ridefinire la questione su base documentale. Confido nella chiusura bonaria delle trattative e quindi nella riapertura del bar anche perché un locale chiuso non fa altro che generare tristezza specialmente se si parla del caffè Tripoli e di quello che è ormai noto che il caffè Tripoli ha dato alla comunità martinese e non solo. Grande serata all'Ippodromo Paolo VI di Taranto con i Gran Premi Città di Taranto e Due Mari. Alessandro Gocciadoro, top driver italiano, è stato il mattatore dei Gran Premi 2024 all'Ippodromo Paolo VI in una serata magica condotta da Vito Punzi e Rosalba De Giorgi con Omar Tufano, telecronista. Prima la vittoria nella città di Taranto con Eolo Jet, poi quella nel Due Mari, trofeo donato a Carelli abbinato all'Appalio delle Regioni con Always K. Migliaia di spettatori, le rappresentanze del Ministero dell'Agricoltura, delegato all'Onorevole Dario Iaia, del Comune di Taranto con il Vice Sindaco Azzaro e l'Assessore Mazzariello e dell'inedito sponsor Frecciarossa Trenitalia. Tante le attrazioni dalla pizzica ai cavalli, dell'arma dei carabinieri, dagli sbandieratori di ori agli antichi mestieri, la musica, i giochi e tanto altro ancora, per la felicità di Anita e Milva Carelli, titolari della struttura del loro staff. Alla fine i meditati e spettacolari fuochi d'artificio. È stata veramente una corsa molto semplice per un cavallo buono come lui. Ecco, un cavallo in forma straordinaria. Con quali prossimi traguardi? Non so, penso che correrà in Francia tra tre settimane a Anizza, a Cans-sur-Mer. Ecco, un'edizione da ricordare quest'anno qui al Palo VI. Sì, sicuramente. Noi siamo convinti che Taranto sia una città straordinaria. Ci crediamo, lavoriamo per questo. Questa sera una bellissima figura dell'ippodromo Paolo VI, delle sorelle Carelli. Tanta gente, tante iniziative, sport. Una grande presenza anche da parte del Ministero. Io ho rappresentato il sottosegretario La Pietra, il sottosegretario dell'agricoltura. Veramente si può lavorare tanto per far crescere la città e lo sport rappresenta uno dei principi più importanti. pensiamo ai giochi del Mediterraneo, nei quali Taranto deve essere assolutamente protagonista. Ed è tutto il Tg dedicato a Taranto e Provincia termina qui. Grazie per averci scelto, per averci seguito tra pochissimo l'informazione dedicata a Brindisi e Provincia. A tra poco. A Brindisi, nominati due assessori di Fratelli d'Italia, assegnate tutte le deleghe. Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, intervenuto in approfondimento nel nostro OTG, ha spiegato come si è arrivati alla scelta dei nomi degli assessori. Si è insediata questa mattina presso la prefettura di Brindisi la commissione parlamentare di inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, focus sul fenomeno del caporalato. Hanno fatto tappa a Mesagni il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato per parlare di guida sicura. Ben ritrovati in diretta. È il momento dell'informazione dedicata a Brindisi e Provincia alla politica in primo piano. Completata la nuova giunta ed assegnate le deleghe. Ascoltiamo. Si chiude il cerchio sulla nuova giunta al comune di Brindisi con la consegna dei due nominativi mancanti da parte di Fratelli d'Italia dopo il lungo dibattito interno e l'assegnazione delle deleghe da parte del primo cittadino Giuseppe Marchionna a rappresentare il partito di Giorgia Meloni, Giuliana Tedesco in qualità di vice sindaco e assessore all'urbanistica, pianificazione territoriale, rigenerazione urbana e riqualificazione della costa, turismo e impiantistica sportiva e la riconferma di Antonio Pisanelli nel ruolo questa volta di assessore alla pubblica istruzione politiche giovanili, politiche dell'Unione Europea e cooperazione internazionale. Confermata la trasparenza agli affari legali, alle risorse umane e ai rapporti con il Consiglio Comunale, Daniela Maglie, assessore ai lavori pubblici, periferie e decoro urbano, edilizia residenziale, scolastiche, strade e cimiteri, contratto istituzionale di sviluppo e coordinamento progetti PNRR, Cosimo Elmo, assessore al bilancio, ai tributi, all'economato, la lotta all'evasione, gestione del patrimonio e la programmazione economica, Caterina Cozzolino, mentre assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, assistenza all'infanzia, politiche di integrazione scolastiche, politiche di interventi per l'immigrazione, del lavoro, politiche abitative, Canile Dog Park, Ercole Saponaro, assessore invece al commercio, industria agricoltura, mercati, gemellaggi e marketing territoriale, Mario Scioscioli, assessore invece alla tutela dell'ambiente, ecologia, igiene pubblica, gestione dei rifiuti, bonifiche, aree protette verde, parchi cittadini, Livia Antonucci, mentre a chiudere il quadro, l'assessore Teodoro Scarano, che si occuperà invece di sport e promozione sportiva, cittadinanza attiva e responsabile, e servizi anagrafici ed elettorali. Torneremo a parlare di politica tra pochissimo, intanto si è insediata questa mattina presso la prefettura di Brindisi la commissione parlamentare di inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il focus è sul fenomeno del caporalato. Andiamo in diretta da Brindisi con la collega Cristina Cavallo. Cristina, buon pomeriggio. Sì, ben ritrovati in diretta da Brindisi. Siamo in piazza Santa Teresa, alle mie spalle l'ingresso della prefettura del capoluogo Messapico, dove da questa mattina è a lavoro una delegazione della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, sullo sfruttamento e soprattutto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È guidata dal senatore Tino Magni e si farà anche un focus particolare su un fenomeno tristemente noto in questo territorio che è appunto quello del caporalato nel comparto agricolo della provincia. Allo scopo naturalmente di acquisire tutti gli elementi utili, informativi, si stanno tenendo in queste ore delle audizioni con i rappresentanti degli enti competenti in materia e non ovviamente associazioni di categoria del settore agricolo ma anche sindacati. Per sapere di più l'appuntamento nella prossima edizione del nostro Tg di informazione di Antenna Sud per il momento da Brindisi è tutto, è la linea, torna allo studio. Grazie, grazie Cristina. Torniamo a parlare di politica come abbiamo detto prima perché questa mattina il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Luigi Icaroli è intervenuto nell'approfondimento del nostro telegiornale e ha spiegato i motivi di come si sia arrivati alla scelta dei nomi degli assessori. Noi avevamo lavorato alla cremente per trovare le due figure maschili. A fronte della richiesta nuovamente ricevuta da parte del sindaco abbiamo per il bene della città preso in considerazione la sua richiesta che con molta serenità abbiamo lavorato per trovare una figura per riscontrare una figura che potesse avere requisiti che potessero poi ritornarsi a vantaggio nostro come gruppo consigliare per l'amministrazione. Cambiamo argomento, c'è un'ultima ora, un incidente stradale alle porte di Francavilla a Fontana nel Brindisino un'auto finita fuori strada finendo in un canale che si trova nei pressi della carreggiata. Interrotto il traffico durante le operazioni di recupero del mezzo che sono state effettuate dai vigili del fuoco nel sinistro non ci sarebbero altri mezzi coinvolti sul posto anche i carabinieri e polizia locale di Francavilla a Fontana sarebbero due i giovani feriti e condotti nell'ospedale Antonio Perrino. Naturalmente dettagli nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ed è stato chiuso per due settimane con un provvedimento del questore di Brindisi un ristorante di Mesagne. Il ristorante nel centro storico di Mesagne che sarebbe stato il fulcro di un'attività di spaccio di droga secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla procura di Brindisi è stato chiuso per 15 giorni con un provvedimento di sospensione della licenza per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande firmato dal questore di Brindisi Giampiero Lionetti. L'atto amministrativo è la diretta conseguenza dell'esecuzione da parte del commissariato di polizia di Mesagne di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Brindisi a carico di 17 persone. Le indagini erano partite proprio da un'aggressione avvenuta nel settembre 2022 davanti al ristorante che si trova a due passi dalla chiesa madre di Mesagne. Nonostante non ci sia mai stata una denuncia visionando i filmati della videosorveglianza gli investigatori si sono resi conto che essere aggredito era stato proprio il ristoratore e approfondendo le indagini avrebbero accertato che il movente era legato alla droga e che l'esercizio pubblico era la base per la compravendita e addirittura per il consumo delle sostanze stupefacenti dei giovani mesagnesi e di quelli dei comuni vicini. Gli agenti del commissariato hanno rivolto in particolare le loro attenzioni verso un pregiudicato che insieme ai suoi compici si era reso responsabile di altre due aggressioni avvenute per strada. Dopo gli arresti alcuni degli indagati hanno ammesso parzialmente le loro responsabilità, altri hanno respinto le accuse. La parola passa ora al Tribunale del Riesame. Con la collega Cristina Cavallo ci spostiamo ora nella zona industriale di Brindisi. Qualche giorno fa le denunce di un gruppo di cittadini e un primo sopralluogo da parte del Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Brindisi, Roberto Quarta. Queste le immagini girate una settimana fa circa. A distanza di qualche giorno siamo tornati con le telecamere di Antenna Sud e l'area si presenta così. Siamo a due passi da alcuni insediamenti industriali, tra cui uno zuccherificio. Quello che nota anche è uno sguardo distratto, rifiuti e acque che definire torbide sembra un eufemismo. Oltre ai rifiuti sparsi in questa zona, quello che preoccupa maggiormente sono proprio queste acque di ristagno che vedete nelle immagini, sembra un canale di scolo. La domanda è la preoccupazione. Da dove provengono? Cosa contengono queste acque che potrebbero infiltrarsi anche nelle coltivazioni dei proprietari dei terreni limitrofi e attigui a quello che è i profani? Sembra essere un canale di scolo? Questa è una situazione che ho scoperto pochi giorni fa a seguito diverse segnalazioni che mi hanno arrivato da alcuni cittadini i quali poi si sono impegnati anche a accompagnarmi sul posto. e sinceramente quando sono arrivato la prima volta sono rimasto un po' un attimo sconvolto, sembrava di stare nella terra dei fuochi. Quindi qui non si vuole dare colpa a nessuno, nessuno vuole indicare responsabilità, ma sicuramente è una situazione che va affrontata urgentemente e più oltre al fatto di bonificare la zona e credo che bisognerebbe fare delle analisi un po' più attente e più approfondite per quanto riguarda il discorso delle acque. Chiaro che prima di puntare il dito contro un presunto colpevole c'è da pensare alla bonifica dell'area che oltre alle acque è ormai una discarica al cielo aperto, come vediamo dalle immagini. Bisogna coinvolgere anche l'Asi e più di qualcuno insomma. Preoccupato? Sinceramente sì. Un'iniziativa Brindisi per celebrare il riconoscimento della Via Appia patrimonio mondiale UNESCO. Brindisi celebra il riconoscimento della Via Appia come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un risultato importante per tutto il territorio della storia italiana, ma che ovviamente tocca il territorio pugliese e brindisino, in un incontro che ha visto anche la partecipazione in collegamento del sindaco di Roma Gualtieri e del sindaco di Benevento Mastella con i tre comuni di Roma, Benevento e Brindisi che sono al centro di questo progetto, che guarda ovviamente al futuro con uno sguardo al turismo e non solo. Ecco l'accento messo dal primo cittadino brindisino sull'importanza di questo riconoscimento nel cammino di Brindisi, capitale della cultura. Il patrimonio della città viene ulteriormente arricchito, lo era già di suo per la verità, quindi presumo che anche questo avrà un valore. E questa opportunità va accolta nei termini in cui dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questa grande storica opportunità. Adesso spero che i territori mantengano le aspettative e cioè effettivamente portino avanti le attività che abbiamo in qualche maniera programmato nel piano di gestione affinché questo riconoscimento sia portatore di benefici su tutta quanta, lunga tutta quanta Lappia. Un grande sito, bellissimo. Un aspetto storico così importante deve essere condiviso con la comunità e non chiuso, diciamo, soltanto aperti ai turisti esterni. Quindi per noi è un'occasione di far vivere questo posto, questi posti ancora di più. È una cosa fantastica. Tappa a mesagne per il pullman azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato per parlare di guida sicura. La cintura indossata per evitare molte salate e 5 punti. Guida sicura, il pullman azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato hanno fatto tappa a mesagne, hanno stazionato tra la villa comunale ed il castello Normanno Svevo dove gli uomini e le donne della stradale hanno accolto i cittadini con particolare attenzione ai giovani per diffondere la cultura della guida sicura. Grazie ad una sala multimediale dotata di strumenti interattivi sono stati forniti utili consigli per riconoscere i pericoli e le insidie della strada. È stato possibile comprendere anche le conseguenze della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica grazie ad apposite simulazioni mediante occhiali multimediali. È stata inoltre presente la Lamborghini della Polizia di Stato l'auto utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue ed uno stand della Polizia Scientifica con il veicolo Fullback un vero e proprio laboratorio mobile per l'esame della scena del crimine. L'evento di stasera rientra nella più ampia campagna di sicurezza stradale denominata Estate con noi organizzata dalla Polizia Stradale quindi fino al 15 settembre il pulmono azzurro e la Lamborghini attraverseranno lo stivale proprio per promuovere la cultura della legalità e della sicurezza stradale proprio per far sì di contribuire alla diminuzione anche del fenomeno dell'incidentalità che purtroppo colpisce sempre di più la fascia d'età sotto i 24 anni. Ed è tutto, termina qui il Tg dedicato a Brindisi e Provincia ci fermiamo per qualche istante, tra poco. Continuano le indagini dei carabinieri dopo l'episodio avvenuto a Gallipoli nel primo pomeriggio di domenica quando un furgone è stato dato alle fiamme in pieno giorno. È morto dopo 5 mesi di coma l'operaio 52enne di Galatone è caduto da un'impalcatura mentre eseguiva lavori. La procura ha disposto l'autopsia. È stato ritrovato un nido di caretta a caretta nella marina leccese di Torre Rinalda. Quest'anno nel Salento sono già oltre 60 i nidi di tartarughe ritrovati. Ben trovati, nuovamente in diretta è il momento dell'informazione dedicata a Lecce e Provincia andiamo direttamente a collegarci con la redazione leccese con il caporedattore Maria Teresa Carrozzo. Maria Teresa, buon pomeriggio. Benvenuti, siamo come di consueto in diretta dalla redazione di Lecce di Antenna Sud come vedete al mio fianco un ospite diamo il benvenuto all'onorevole Ugo Lissi. Benvenuto. Salve, buongiorno ai telespettatori e a lei. E' sempre un piacere averla qui a Antenna Sud. E' reciproco, grazie dell'invito naturalmente. Onorevole, a distanza ormai possiamo dire è quasi un mese dall'insediamento del sindaco Adriana Polibortone, l'abbiamo detto in tutte le lingue in tutti i modi, una campagna elettorale veramente sul filo del rasoio molto, molto empatica ed emotiva sulle corde proprio dell'emotività. Il sindaco di centrodestra vince l'amministrazione di centrodestra guida la città ormai quasi da un mese. In realtà non si è ancora insediato il consiglio comunale per i tempi che sono voluti dal Ministero e non per una mancanta dell'amministrazione. Facendo un piccolo bilancio lei che è di politica e di acqua sotto i ponti ne ha vista tante nella sua lunga carriera come sono i primi passi portati avanti da questa amministrazione ammatrice Polibortone? Guardi, onestamente non posso che essere personalmente soddisfatto. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che Adriana Polibortone è riuscita a fare immediatamente la giunta a focalizzare come già era ben a conoscenza essendo consigliere comunale, leader dell'opposizione a conoscenza delle problematiche di quelle criticità e i temi principali che bisognava affrontare qualora si fosse vinto. Ciò è accaduto e Adriana appunto ha iniziato a lavorare facendo innanzitutto la squadra che si è da poco insediata, cioè la giunta attendiamo a breve ma è arrivato diciamo il verbale della Commissione Centrale con la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale ma dai primi atti degli assessori insieme alla sindaco, ad Adriana, Polibortone si ha già la percezione che abbiamo iniziato col piede giusto è inutile stare a dire il blocco dei lavori inizio della viale 25 luglio piuttosto che bloccare alcune piste ciclabili superflue sarebbe ritornare forse anche nella campagna elettorale dove si sono avuti delle visioni diverse degli scontri però oggettivamente se lei ha deciso in tal senso e c'è stato il consenso da parte dei commercianti e degli operatori economici di quelle strade piuttosto che anche dei cittadini vuol dire che siamo sulla strada giusta Un'ultima domanda random perché dobbiamo passare la linea allo studio abbiamo visto un filo diretto realmente tra Lecce e Roma abbiamo documentato la sua presenza a Roma con l'incontro di diversi ministri è un filo reale quello che c'è? Sì, è un filo reale è un filo reale perché c'è Adriana Polibortone che è stata ministro con Berlusconi c'è il senatore Marti presidente della Commissione Cultura io qualche anno l'ho fatto tre legislature del Parlamento e molti sono colleghi che adesso sono ministri o sottosegretari Giorgia Meloni era una mia vicina di banco quindi una cara amica ma insieme a loro naturalmente anche gli altri ministri ci può essere Fitto piuttosto che Valditara Salvini che è venuto più volte e qui l'ha rimarcato quando ci siamo visti perché è venuto a portare non il suo saluto a portare la concretezza della firma finalmente dello sblocco della 275 a portare naturalmente anche il suo aiuto reale e concreto quello del governo e del vicepremier Salvini ad esempio in una prospettiva che può essere quella perché no di un porticciolo turistico importante a San Catalto grazie mille all'onorevole Ugo Lissi grazie a lei e buongiorno a tutti i telespettatori tanti sono i temi che affronteremo con lei magari in un'altra trasmissione a lei dedicata la maschera è un po' particolare fa delle domande troppo private ripassiamo la linea in studio buongiorno buona giornata grazie Maria Teresa grazie al tuo ospite voltiamo pagina ci occupiamo di cronaca lo facciamo con il collega Francesco Schiavano sono da poco passate le 14 di domenica 28 luglio e un Fiat Fiorino prende fuoco per mano di ignoti in pieno giorno a Gallipoli questo l'ennesimo episodio che dimostra come la tranquillità i ritmi frenetici dell'estate sono stati spezzati da un clima di tensione e paura nella città bella il tutto iniziato all'alba di sabato 27 luglio 2024 al mercato ittico situato sulla riviera Cristoforo Colombo giungono carabinieri, polizia, guardia costiera e polizia locale per eseguire il sequestro di 8 box a seguito di un'attività d'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Lecce nei confronti di 11 soggetti indagati a vario titolo per occupazione di demanio marittimo e irregolare somministrazione e consumazione di prodotti ittici condotte reiterate nel corso del tempo e, come si legge nelle carte dell'inchiesta avrebbero portato l'amministrazione comunale ad emettere ordinanze di sgombero più volte impugnate dai commercianti i quali, intanto, avrebbero continuato non solo ad occupare abusivamente il demanio pubblico, secondo i PM ma ad allargarsi ponendo sul piazzale tavoli, sedi, espositori e banchi di vendita e, nei casi più gravi a provvedere a passaggi di concessioni scadute senza alcun titolo valido per procedere quest'ultima situazione, secondo le piste battute dagli investigatori potrebbe essere uno dei momenti che ha portato domenica l'episodio incendiario la cui vittima sarebbe un commerciante quarantenne del posto il cui nome compare tra quello degli indagati e, secondo le carte dell'inchiesta a lui sarebbero subentrate altre persone nella gestione di uno dei box coinvolti nel sequestro nei minuti successivi all'esecuzione di quest'ultimo inoltre, momenti di tensione sfociati in un acceso diverbio sarebbero avvenuti tra i presenti su tutti questi elementi stanno indagando i carabinieri e la polizia contro il sequestro intanto, già da oggi alcuni degli avvocati potrebbero presentare ricorso ritenendo le motivazioni adotte dal GIP nell'ordinanza troppo generiche e non valutate caso per caso E' morto dopo 5 mesi di coma l'operaio 52enne di Galatone caduto da un'impalcatura mentre eseguiva lavori la procura ha disposto l'autopsia Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Giancarlo Miciali l'operaio 52enne di Galatone è deceduto presso l'ospedale Veris degli Ponti di Scorrano dove era stato ricoverato dopo la caduta da un'impalcatura L'uomo il 6 febbraio scorso stava eseguendo dei lavori di ripristino della rete di protezione di un campetto da calcio privato alla periferia di Galatone insieme ad un collega quando probabilmente a causa del cedimento del ponteggio sono caduti entrambi rovinosamente a terra Le condizioni del 52enne erano apparse subito più gravi tanto da disporre inizialmente il trasferimento d'urgenza presso il Vito Fazzi di Lecce dove è stato ricoverato in stato comatoso per diversi giorni con prognosi riservata e stato poi trasferito presso l'ospedale di Scorrano dove giovedì scorso è deceduto la salma dell'operaio intanto su richiesta della procura della Repubblica di Lecce che ha disposto l'esame è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale del capoluogo Salentino in attesa dell'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore Controlli straordinari dei carabinieri e da spo urbani disposti dal questore di Lecce Furti, risse, accoltellamenti autobruciate in pieno giorno e il bilancio del fine settimana scorso a Gallipoli una città che come ogni estate fa i conti con i continui episodi di violenza e microcriminalità tra le strade del centro cittadino Nella serata di venerdì un ragazzo di soli 20 anni sarebbe stato bloccato e rapinato del proprio iPhone da due giovani extracomunitari L'episodio si sarebbe verificato sul lungomare Galilei all'uscita da una discoteca nella quale il ventenne avrebbe passato alcuni attimi di spensieratezze e divertimento Sabato poi una rissa sarebbe scoppiata tra due gruppi uno del posto e l'altro probabilmente composto da alcuni ragazzi baresi Secondo una parziale ricostruzione degli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza che indagano su quanto accaduto e che hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona i giovani si sarebbero affrontati sul lungomare dove dalle parole in breve sarebbero passati ai fatti L'attenzione degli investigatori è rivolta in particolare a contrasti tra gruppi criminali per la gestione della piazza di spaccio nelle zone di Baiaverde Non è tardata ad arrivare alla risposta delle istituzioni intanto dopo l'altro episodio di violenza avvenuto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio sempre nella zona del litorale sud Gallipolino Il questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo infatti ha emesso sei daspo urbani nei confronti di tre ragazzi leccesi e tre tranesi componenti delle due bande che si sono affrontate con bastoni spranghie e oggetti di ogni tipo Nel fine settimana inoltre la riviera Gallipolina è stata sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del locale comando compagnia guidati dal capitano Alessandro Monti che hanno effettuato controlli a tappeto nei maggiori punti di aggregazione supportati dal personale del nucleo elicotteri di Bari Palese e coadiuvati dai colleghi del laboratorio mobile autonomo nel corso dei numerosi posti di controllo durante i quali sono state identificate 230 persone e oltre 100 veicoli 25 sono le sanzioni amministrative contestate per violazioni del codice della strada e due le patenti ritirate con conseguenti segnalazioni alle competenti autorità per guida in stato di alterazione psicofisica legata all'uso di sostanze stupefacenti Torniamo a parlare del covid-19 perché continuano a salire i casi in questo 2024 Dall'inizio dell'anno i morti a causa del covid-19 in Italia hanno già raggiunto il 2000 e l'aumento di casi e ricoveri registrato nelle ultime settimane rappresenta un campanello d'allarme per il quale in autunno dovrebbe essere pronto un nuovo vaccino Effettivamente c'è un ritorno perché c'è anche una nuova variante probabilmente prepareranno il vaccino in autunno per questa nuova variante e consiglieranno ai soggetti più deboli la rivaccinazione comunque la sintomatologia non è molto pericolosa a parte i soggetti chiaramente fragili si riesce a risolvere con delle linee di febbre qualche problema di spossatezza marcata Ecco si dice però oltre 2000 al momento i morti appunto nel 2024 di Covid Non sono informata in maniera specifica sulla mortalità sinceramente penso che 2000 morti sono comunque nel trend normale di perdita anche perché i soggetti fragili e deboli che muoviono per patologie polmonari sono di gran lunga superiore anche per la semplice influenza In chiusura questa nuova variante è quindi riscontrabile con i normali tamponi? Sì almeno non riscontro nessuna differenza rispetto alle altre varianti al momento stiamo riscontrando la positività che esiste lì dove deve esistere ritrovato un nuovo nido di tartaruga caretta caretta un ritrovamento eccezionale sul litorale adriatico salentino quello fatto a Torre Rinalda di un nido di tartaruga caretta caretta se sul litorale adriatico il ritrovamento rappresenta un caso più unico che è raro su quello ionico invece si è superata quota 60 nata record per il salento e a breve inizieranno le schiuse con la situazione che stiamo vivendo di tantissimi nidi trovati tutti quanti in provincia di Lecce ci mancava quella zona la zona triatica e considerate che Torre Rinalda ha già una storia per quanto riguarda le identificazioni negli altri anni negli anni passati ma questo qui è un nido in ottima posizione che comunque dovrebbe andare a buon fine perché qualche anno fa qualche problema c'è stato con qualche nido per le temperature troppo basse il nido è stato trovato grazie alla collaborazione di tutti quanti fondamentalmente la ditta che fa pulizie sulle spiagge di quella zona riconosce le tracce perché è stata in qualche modo formata dagli operatori del parco di Rauccio e di conseguenza ci ha contattato ha contattato il parco di Rauccio che è intervenuto direttamente sul posto naturalmente hanno contattato noi che siamo l'organo preposto poi alla verifica effettiva del nido siamo intervenuti e siamo riusciti poi a trovare le uova quasi subito perché era una situazione abbastanza semplice dopodiché l'hanno preso in carico e l'hanno messo in sicurezza normalmente ci vogliono una sessantina di giorni per le schiuse noi nella parte ionica avendo temperatura più alta riusciamo ad arrivare anche a 50 52 giorni di incubazione lì ci vorrà un pochino di più quindi probabilmente li prenderà tutti i 60 giorni quindi se ne parlerà comunque verso la seconda quindicina di settembre mentre sul litorale ionico i nidi sono molti di più quest'anno è un record incredibile sì sono parecchi di più nel senso che per noi è un record storico nel senso che noi dal 2006 che abbiamo cominciato a occuparci di edificazioni siamo arrivati a un record di 30 33 edificazioni per anno quest'anno siamo già a 61 e questo numero tende a salire ancora un ordigno artigianale dall'alto grado di pericolosità una pistola soft air riproducente una beretta calibro 9 una cartuccia vari bossoli di diverso calibro e sostanza stupefacente quanto è stato ritrovato dai poliziotti della questura di Lecce nell'abitazione di un uomo al momento rinchiuso nel carcere leccese a disposizione dell'autorità giudiziaria competente e termina qui il Tg dedicato a Lecce e provincia grazie per averci scelto per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia e Basilicata